Signore e signori, diamo il benvenuto ai nostri sposini. Ecco a voi Mills e Mr. Doyle. Vi presento Hercule Poirot, il più grande detective vivente. Ho il sospetto che mi abbia coinvolto per altre ragioni, al di là del divertimento. Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico. Il crimine è omicidio. L'omicida. È uno di voi. L'omicidio è stato pianificato. Bang. Ha visto o sentito qualcosa? Qualcun altro è morto. Cosa ha fatto ieri notte? Adesso accusami di omicidio. Lui accusa tutti di omicidio. Sì, è un problema, lo ammetto. Trovi chi ha fatto questo. Ci sono moltissimi conflitti e gelosie. Bloccate le porte! L'assassino è qui. Arresterà qui. Assassinio sul Nilo. Dal 10 febbraio al cinema.